Con l'intento di disciplinare in maniera uniforme all'interno degli Stati membri la materia della tutela dei dati personali dei cittadini, l'Unione Europea ha dato inizio nel 2012 ad un iter legislativo che ha portato all'approvazione nel 2016 di due nuovi strumenti normativi. Un regolamento in materia di protezione dei dati personali ed una direttiva sulla protezione dei dati personali scambiati dalle autorità di Polizia e Giustizia. Il nuovo regolamento europeo è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri e cambia in maniera sostanziale il rapporto fra utenti e gestori dei dati personali, siano essi imprese private o pubbliche amministrazioni. Introduce regole chiare e trasparenti per i cittadini e soprattutto offre più tutele e libertà nella gestione dei dati personali, premiando i soggetti più responsabili nel garantire la sicurezza e la riservatezza del loro trattamento. Ne parliamo con Francesco Modafferi, dirigente del Dipartimento Libertà Pubblica e Sanità dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. Il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali rappresenta una novità di portata significativa per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Quali sono le principali novità di questo nuovo strumento per la tutela dei dati personali? Il 25 maggio 2018 sarà venerdì e inizieremo un fine settimana che però non sarà uguale a tutti i precedenti. La grossa novità sarà rappresentata dal fatto che proprio in quel fine settimana entrerà pienamente in vigore, diventerà applicabile per meglio dire, il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. La novità è significativa perché con il regolamento per la prima volta in tutti i paesi europei le stesse regole di protezione dei dati personali saranno applicate e regoleranno questo importante settore relativo ai flussi di dati personali in tutta Europa. Quindi potremmo dire in sintesi che la più grossa novità che il regolamento introduce è il regolamento in se stesso, perché il regolamento definisce regole uniformi all'interno dell'Unione Europea che non saranno più come in passato invece legate a recepimenti a livello nazionale che hanno introdotto delle forti differenziazioni all'interno dei paesi europei. Il regolamento si pone in continuità rispetto alla disciplina precedente, quella della direttiva 9546. Molti degli istituti che sono già attualmente implementati continueranno a essere vivi ancora con il nuovo regolamento, ma il regolamento introduce anche alcune importanti novità, alcuni adempimenti nuovi, ma soprattutto una delle principali novità cambia un po' il paradigma di applicazione di questa disciplina attraverso l'introduzione del cosiddetto principio di responsabilizzazione o accountability. Sarebbe però riduttivo immaginare che il regolamento sia l'effetto, o meglio la causa di un cambiamento nella protezione dei dati personali, perché scambieremmo il rapporto causa-effetto. Il regolamento non è altro che lo sforzo del regolatore e del legislatore europeo di tener testa o di regolare l'evoluzione tecnologica così veloce che contraddistingue la nostra società e che quindi necessita di un piano regolatorio più aggiornato, improntato a una maggiore flessibilità di quello passato, proprio perché le mutazioni che la tecnologia introduce sono così tante e così veloci che un quadro regolatorio troppo rigido rischierebbe di diventare velocemente obsoleto. Il regolamento europeo introduce il principio della responsabilizzazione, accountability di titolari e responsabili del trattamento dei dati. Puoi spiegarci meglio di cosa si tratta? Il principio di accountability è sicuramente una delle più importanti novità che il regolamento europeo introduce. Di che cosa si tratta in concreto? Si tratta di un passaggio molto importante da una logica di tipo più prescrittivo, una logica nella quale il titolare del trattamento era tenuto a adottare una serie di adempimenti anche di carattere formali preventivi rispetto al trattamento, a una logica invece che è definita di responsabilizzazione. In che senso? Responsabilizzazione nel senso che spetta al titolare del trattamento che, come sappiamo, nella logica della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica che prende tutte le decisioni di fondo sul trattamento, assicurare il rispetto dei principi, dei diritti e degli adempimenti previsti dal regolamento e anche essere in grado di comprovarlo. Questa è la definizione di accountability o responsabilizzazione che noi possiamo trarre dal regolamento, dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento. Un cambiamento quindi molto importante che, come dice anche la parola, tende ad aumentare la responsabilità del titolare del trattamento nelle decisioni di fondo che caratterizzeranno il trattamento. Spesso si è detto in passato la disciplina dei protezionati personali è stata accusata di essere eccessivamente improntata ad obbighi di tipo formale e si invocava un minore formalismo e il legislatore europeo, possiamo dire, in qualche modo ha colto questa richiesta. Questo però non significa, e sarebbe sbagliato, immaginare che questa riduzione degli obbighi formali significa un minor coinvolgimento o una maggioranza semplicità, semplificazione delle attività, perché la responsabilizzazione invece imporrà ancora di più un coinvolgimento, uno sforzo e una conoscenza dei principi della protezione dei dati personali, in quanto sarà proprio il titolare del trattamento a dover verificare sulla base di una serie di indici che sono definiti nel regolamento come andare a modellare le misure volte a tutelare i diritti degli interessati in ragione della maggiore o minore rischiosità del trattamento stesso. Un approccio quindi tendenzialmente basato sul rischio, quindi maggiore sarà il rischio di impatto del trattamento sui dati degli interessati, maggiori dovranno essere le misure adottate dal titolare del trattamento per prevenire questo rischio e in questo senso un aspetto molto importante sarà quindi il ricorso dei titolari a competenze in grado di supportarli nel prendere queste decisioni. Il regolamento europeo incide in maniera significativa sugli enti pubblici che gestiscono e conservano i dati personali degli utenti. Quali sono i provvedimenti che le PA italiane devono avviare con assoluta priorità? Il regolamento prevede una serie di riempimenti e abbiamo detto il cambiamento pur nel segno della continuità rispetto a quello che era la regolazione attuale sarà un cambiamento importante. Il garante proprio per questo il 24 maggio di quest'anno del 2017 ha inviato ai vertici della pubblica amministrazione italiana con un'iniziativa senza precedenti, una lettera con la quale ricordava alle pubbliche amministrazioni che il tempo di avvicinamento al regolamento stava passando e che era necessario intraprendere da subito una serie di attività volte a rendere conformi i trattamenti già in corso al nuovo quadro regolatorio. Nel inviare questa lettera il garante non si è limitato a semplicemente ricordare questa scadenza ma ha anche indicato alle pubbliche amministrazioni tre priorità, cioè tre elementi che secondo il garante le pubbliche amministrazioni da subito avrebbero potuto adottare, mettere in piedi per agevolare il percorso di avvicinamento alla pubblica amministrazione al nuovo regolamento. Quali sono le tre priorità che il garante ha indicato? La prima, la designazione del responsabile della protezione dei dati personali. Questa figura nuova per il nostro ordinamento può assumere all'interno del nuovo quadro regolatore di protezione dei dati personali un ruolo strategico perché rappresenta ed tenderà a rappresentare proprio quel livello di alta competenza in materia di protezione dei dati personali che è richiesto dall'attuazione del principio di accountability che informerà alla nuova disciplina di protezione dei dati personali. Una persona quindi competente che dovrà essere selezionato e scelto in funzione di queste competenze potrà essere interno o esterno all'amministrazione ma sicuramente contribuirà attraverso i pareri che in base al regolamento dovrà rilasciare al titolare del trattamento ad orientare il titolare del trattamento verso un trattamento di dati che sia sempre più efficace, economico, efficiente ma allo stesso tempo rispettoso della disciplina della protezione dei dati personali. Al secondo posto di questa scala di priorità il garante ha indicato l'istituzione del registro delle attività di trattamento. Il registro delle attività di trattamento è un, possiamo dire, un'applicazione, di fatto sarà un'applicazione attraverso la quale si realizzerà una vera e propria mappa dei trattamenti di dati effettuati dai soggetti pubblici e privati, costituirà certamente uno strumento essenziale per la gestione della qualità del trattamento all'interno della pubblica amministrazione e quindi uno strumento di lavoro essenziale per il responsabile della protezione dei dati personali anche se la sua implementazione non spetterà in prima persona responsabile della protezione dei dati personali ma probabilmente sarà opportuno che tutti quei centri decisionali all'interno dell'amministrazione che hanno il potere di avviare nuove iniziative, nuove raccolte di dati, istituzioni di banche dati, di flussi di dati dovranno essere chiamati ad alimentare continuamente questo strumento proprio per consentire di mantenere una visione in tempo reale e aggiornata sui trattamenti in corso e individuare quelli più rischiosi nella logica di regolazione in funzione del rischio. Infine, come terzo elemento di priorità, il garante ha indicato la messa a punto di un sistema di interno rilevazione delle cosiddette violazioni dei dati personali, cioè potremmo dire tutti quegli incidenti che possono incidere sulla sicurezza dei dati personali e possono pregiudicare la riservatezza dei dati personali, tra i quali insomma quelli che sono in inglese definiti data breach. Il nuovo regolamento generalizza gli obblighi di comunicazione da parte dei titolari del trattamento quando si verifica una violazione dei dati personali. Ciò significa che a seconda della gravità della violazione il titolare del trattamento sarà obbligato a comunicare l'avvenuta violazione all'autorità di controllo e in certi casi anche a tutti i cittadini interessati proprio per ridurre l'impatto negativo che da quella violazione potrebbe ricadere presso nei confronti dell'interessato. Anche questa quindi una novità importante, non una novità assoluta, ma sicuramente per ampiezza, aumenta molto l'ampiezza dei soggetti tenuti a questa forma di comunicazione e in un contesto tecnologico sempre più digitale, con quindi un aumento notevole di rischi di che queste violazioni si possano realizzare un elemento importante di questa nuova regolazione che non sarà semplice da implementare ma è proprio per questo il Garante lo ha indicato tra le priorità.